Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Oggi vi presento la Revolt, una ROM ancora alla prima versione e in fase beta ma già decisamente stabile. Anzi direi quasi che si tratta di una delle migliori KitKat che io abbia mai provato. KitKat quindi basata su Android 4.4.4. Iniziamo vedendone le impostazioni. Oltre a quelle classiche troviamo OPAP che ci permette di scegliere i permessi da concedere alle singole applicazioni in modo da gestire la privacy, Revolt Control e Tems. La seconda voce rimanda al Temchooser di CyanogenMod attraverso il quale potremo personalizzare stile, icone, caratteri, bootanimation e altro grazie ad appositi pacchetti che sono da scaricare a parte, mentre la prima rimanda ad un'applicazione che ci permetterà di impostare al meglio la ROM. Nella schermata d'apertura potremo effettuare una donazione e vedere i membri del team. Su Generale scegliere se mostrare la barra della RAM, se riaccendere il device nel momento in cui lo si collega all'alimentatore e se abilitare le notifiche PIC che, se riceverete una notifica quando il dispositivo è in standby, lo accenderà su una schermata dedicata agli avvisi. Blocco schermo ci permette di impostare la lock screen accendendo il display e controllando la musica con i tasti volume, scegliendo se mostrare il livello della batteria attorno all'anello, se permettere lo sblocco con il tasto menu e altre opzioni tra le quali anche la possibilità di abilitare le notifiche. Barra di Stato ci mette a disposizione tutta una serie di personalizzazioni legate alla status bar, come lo slider per aumentare o diminuire la luminosità e il doppio tap per sospendere, ci sono opzioni per le notifiche, per l'orologio e la batteria, per il segnale e il traffico dati. Togols consente di scegliere, ridisporre e configurare gli strumenti che troviamo nel menu a tendina secondario, su tasti fisici possiamo associare delle azioni alla pressione normale o prolungata del tasto Home e di quelli soft touch e su Power Menu potremmo personalizzare il menu che si ottiene tenendo premuto a lungo il tasto Power. Barra di Navigazione permette di attivare e impostare la Navigation Bar e Anello permette di fare la stessa cosa con l'anello di navigazione. Qui è possibile scegliere il numero di collegamenti e l'azione da far compiere a ciascuno di essi. Su Audio possiamo scegliere se attivare l'avviso di volume troppo alto e il suono di regolazione dei volumi di sistema. Nastri permette di aggiungere delle scorciatoie su una barra laterale che potremo ottenere con uno swipe, swipe che può essere personalizzato per esempio mettendolo in alto, in basso o al centro, e barra laterale che con uno swipe prolungato se così possiamo dire apre una lista con le nostre applicazioni. Attraverso Animazioni possiamo personalizzare tutte le animazioni di sistema tra le quali anche la barra di caricamento, LED permette di controllare un'eventuale LED di notifica e ovviamente ora la schermata è vuota perché l'S2 ne è sprovvisto e infine su Heads Up possiamo abilitare le notifiche pop-up introdotte da Google in Android 5.0 Lollipop. Ok, torniamo alla Home e l'interfaccia di default è Launcher 3 che è una sorta di Google Experience Launcher. Per quanto riguarda invece le applicazioni di sistema troviamo Apollo ovvero lettore musicale di SianogenMod, documenti che è una specie di file manager per i file multimediali, Hangout, avvio applicazioni che è il gel ovvero il launcher di Google, i messaggi, Movie Studio News e Meteo, Revolte Control che è l'applicazione che abbiamo visto prima che consente di personalizzare la ROM, Revolte OTA che consente di controllare se sono presenti eventuali aggiornamenti per ROM e Google Apps e un registratore vocale. Vediamo ora la fotocamera che è quella classica dell'Android puro con in più la possibilità di scattare con il tasto ON-OFF. Proviamo quindi a effettuare qualche scatto, facciamone anche senza il flash e come vedete la velocità di messa a fuoco e di scatto è abbastanza buona. Andiamo ad osservare i risultati ottenuti e sono tutti nitidi e ben definiti perciò fotocamera ottima. Lo stesso vale per la parte video che funziona alla perfezione. Ok, non ho notato bug da segnalare quindi considerazioni finali. Per quanto riguarda la gestione energetica è ottima. Io sono sempre arrivato a fine giornata con circa 15-16 ore di utilizzo anche con un uso piuttosto intenso e 3 ore e 3 ore e mezza di schermo. Inoltre la fluidità è davvero buona e la stabilità perfetta. Io non ho mai notato riavvii spontanei né sono mai stato costretto a riavviare. Perciò se state cercando un'ottima ROM per il vostro dispositivo la Revolt può proprio fare al caso vostro, è davvero valida e, siccome è ancora una beta, secondo me può migliorare ulteriormente. Perfetto, nient'altro da aggiungere se non che la lista dei dispositivi compatibili la trovate in descrizione insieme al download della ROM e delle Google Apps, quindi questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace, condividetelo e ricordatevi di iscrivervi al canale e per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!